L'amore è prendersi cura di un'altra persona, essere presente per un'altra persona, nonostante tutte le difficoltà che possono esserci, nonostante i giorni brutti, i giorni belli. Avere questa idea concreta che ci sei e ci sarai e ti prenderai sempre cura della persona che è accanto, perché questa persona è entrata nella tua vita e te sei lì, quindi diventi risforzabile perché è il tuo piccolo tesoro, è la cosa che più conta. The Lord God said, It is not good for the man to be alone, I will make a helper suitable to him. Then the Lord God made a woman from the river, he had taken out of the man, and he brought her to the man. Let us, therefore, bear in mind that God ordained marriage for the welfare, and happiness of the people whom he created. God unites the men and the women to become one flesh in his sight. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh, so they are no longer two, but one. Allora, l'amore per me è avere pazienza, fede soprattutto. L'amore è incontrarsi in un certo punto, non può essere soltanto un solo io, deve essere un 50 e 50 e ok, ci incontriamo in una parte. L'amore è amarsi ogni giorno, scegliersi ogni giorno, come un fiore che deve essere sempre annaffiato, sennò poi diciamo che non va bene così. Bisogna sempre prendersi cura dell'altra persona, anche nei minimi dettagli. Voi, first time mette in a square, in the city, I was working, and she was just passing by, and I saw her, I saw she was smiling, she was beautiful, she just got me. E' molto gentile con tutti noi, la mia famiglia. Sarò sempre qui per te, anche se non mi coinvolgi spesso nei tuoi pensieri, perché non vuoi che io mi rattrista. Voglio sapere, vorrei che tu sappia che non sarai mai solo, da oggi in poi e per sempre. Mi amore Chiara, loving Chiara, lovely Chiara, well, I love you. I'm gonna love you today, tomorrow, every single day of our lives. A presto. 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 A presto.